Pinna sospetta, quindi squalo sospetto a poche decine di metri dalla battiglia del mare di Fiumara a Marina di Grosseto, ci troviamo in Toscana. Per il secondo giorno consecutivo i bagnanti sono stati fatti uscire dall'acqua per un allarme di un presunto squalo, sono stati i bagnini dalle torrette aranciate d'allarme. Sul posto della guardia costiera, la punzione municipale, un attrabbistamento è stato segnalato davanti alla spiaggia della Feniglia, secondo la capitaneria dovrebbe trattarsi di verdesche o di squali volpe, specie che non attaccano però l'uomo, anche se l'avvicinamento alle spiagge è un fenomeno considerato come anomalo. A Marina di Grosseto tuttavia i bagnanti sarebbero comunque stati invitati a non allontanarsi troppo dalla riva. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione e vi determina qua, se abitate nei palazzi di Rosseto, in questa regione, la Toscana, fatemi sapere se avete avuto la visione di tale sospetto squalo oppure no. Iscrivetevi con se...